Senti, questo che è un campo di battaglia, questo ve l'ho messa, è molto molto interessante questa perché è una lastra che mi è stata portata proprio da poco, la settimana scorsa ed è questa, non è un dentista italiano che l'ha curato, se no ci denunciano, vi traccio quello che è il profilo dell'osso, qua sulla lastra, qua, qui, qua, qua un impianto già l'hanno tagliato e una punta l'hanno lasciata dentro, qua, qui, qui e qui, l'osso è qua, quindi significa che quelle spire sono tutte fuori dall'osso, sotto è ancora l'osso e tutto qua, attorno all'impianto, qua sale, vedi tu quest'alone scuro, qui, qua, qua, qua hanno messo un impianto a lama che si usavano negli anni 60, si, tac 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 tac, lo inserivi dentro, non è che non funziona, funziona, è ottimo come impianto quello, è ottimo, il problema è che è superato perché è un impianto dove i denti li incolli sopra e poi c'hai altri tipi di problemi, ma si integra tutto quello che è titanio nell'osso, se tu lo metti e chiudi si integra, l'impianto, il titanio si integra nell'osso, si usa in ortopedia, in odontoiatria, si usa il titanio perché? Perché integra, viene riconosciuto, il problema non è l'impianto qua, ok, ma è come hanno messo i denti sopra, questi sono denti incollati, ok, questi denti, guarda qua la punta, qua si incastra cibo qui sotto, qua hanno unito invece radici naturali che sono ammortizzate nell'osso con impianti che invece sono rigidi nell'osso, quindi flette qua davanti la bocca, pensate voi meccanicamente sta bocca, no, davanti flette perché ha ammortizzatori, dietro ha due cose rigide che tengono il ferro di cavallo in bocca, cosa è che succede? Che qua dietro flette l'osso attorno agli impianti e quindi si liquefa l'osso come vi ho detto, lo perde e quindi da togliere che cosa? Impianti, radici e questo, anche l'osso qua dietro ormai a metà degli impianti, sopra questi sono viti, come facciamo a toglierle? Si sviti, la viti e la sviti, oppure se non viene proprio la tagli e la lasci lì sotto dormiente, comunque ti tagna integrato, noi delle volte tagliamo anche le radici e le lasciamo lì sotto dormienti, quando per esempio abbiamo un osso molto sottile e ci sono ancora delle radici dentro, cosa succede? Se noi dobbiamo mettere impianti vicini, che se tolgo quella radice, gli ultimi pilastri rimasti, l'osso poi fa così, guarisce così e mi sono giocato il volume di osso dove potevo mettere l'impianto, posso espanderlo eccetera, però in quei casi conviene invece, tagli la radice, no non crea problemi, o se crea problemi la togli la radice, fai tagli a gengiva, la sfili, ma intanto hai già messo gli impianti vicini in un buon osso, ma non danno quasi mai problemi queste radici le tagli e ti mantengono il volume dell'osso. Qua poi sopra cose che ha fatto, ha messo nella parte destra e sinistra queste le ha unite, tutto con una protesi che è incollata sugli impianti, questa è la dimostrazione che le protesi incollate causano tensioni sugli impianti, perché la connessione qua è una connessione attiva, non è passiva, invece le protesi tira, si tira all'impianto, capito? Quando tu le avviti tra di loro, essendo gli impianti tutti divergenti, si vanno a creare delle tensioni e quelle tensioni fanno malissimo poi all'impianto, invece una protesi normalmente è una protesi che ha dei fori che si poggia sopra dei piattelli, che sono i piattelli che stanno sopra agli impianti dentali, ve la faccio vedere qua, c'è un'immagine che vi spiega come è fatta, ecco qua, e questa protesi non sviluppa tensioni sugli impianti, io ho praticamente gli impianti nell'osso, sopra c'è uno snodo con un piattello, vedi la base di appoggio questa? Questa è la base di appoggio, base di appoggio, base di appoggio, su quella base di appoggio c'è anche gioco tra il foro che c'è nella protesi, qua c'è l'altra base di appoggio, si poggia e non crea tensioni, quando è entrata si stringe, si avvita, questa è una protesi avvitata, ve la potete anche passare così vedete i piattelli sotto come sono fatti, sono delle cupolette e quelle cupolette permettono di non creare tensioni.